Si è aperta la presenza del Ministro per i beni e le attività culturali e delle istituzioni regionali e cittadine all'edizione 2016 del Salone del Libro, in programma all'ingotto di Torino fino al 16 maggio. Anche quest'anno il Consiglio regionale è presente nello stand del Padiglione 1, denominato Arena Piemonte. Molti gli appuntamenti in calendario per presentare le recenti novità editoriali e le iniziative delle consulte dei comitati. Grazie